Carlo Carretto, Lettere dal deserto, sarete giudicati sull'amore. Ancora oggi non saprei dirvi se l'episodio della grande pietra sia stato un sogno e che genere di sogno. Ha esercitato così forte influenza sui miei pensieri, ha talmente cambiato le prospettive in cui si vedono le cose, che non l'ho mai potuto attribuire a ciò che comunemente intendiamo quando, svegliandoci, diciamo, ho fatto un sogno. No, no, è stato qualcosa di più. Per me quel tratto di deserto tra Titt e Silet rimane il luogo del mio purgatorio, l'ambiente dove si raccoglie volentieri la mia anima a meditare le cose di Dio e dove probabilmente chiederò da andare dopo morte a continuare la mia espiazione se non sarò stato capace in vita di compiere un atto d'amore perfetto. Ecco la grande pietra sotto il sole accecante del Sahara, la lama d'ombra sulla sabbia calda, la distesa fino all'orizzonte dell'Od, solcato dalle tracce dei camioni, delle jeep, dei petrolieri e dei geologi. Sarete giudicati sull'amore, mi ripete sulla mia immobilità questo luogo, e i miei occhi, bruciati dal sole, guardano lontano il cielo senza nubi. Non mi voglio più ingannare. Non mi posso più ingannare. La realtà è che non sono stato capace di dare la mia coperta a Kadà per paura della notte fredda, il che significa che io amo più la mia pelle di quella del mio fratello, mentre il comandamento di Dio mi dice ama la vita degli altri come la tua. E ciò appartiene ancora al Vecchio Testamento, alla prima rivelazione di Dio all'uomo. Ama Dio sopra ogni cosa e il prossimo tuo come te stesso. Che se veniamo al nuovo e alla rivelazione di Gesù, le cose si complicano. Amatevi tra voi come io vi ho amato. Come io. Cioè non solo la coperta, ma la vita stessa. In realtà l'atto d'amore perfetto consiste nell'essere disposto a fare ciò che fece Gesù. Cioè a morire per Kadà, per me, per tutti. Sotto questa visuale, il cielo è quel luogo dove ciascuno dei presenti deve essere talmente maturo all'amore, da offrire la sua vita per tutti gli altri. È l'amore perfetto, universale, radicale, senza ombra d'avversione, d'antipatia, di limite, colati in esso come nel fuoco. Chi è pronto a ciò, alzi la mano. Per questo, dopo la visione della grande pietra, vedo il mio purgatorio lungo, terribilmente lungo, forse lungo come le epoche geologiche. Questa sabbia che tocco con le mani, che scorre tra le mie dita, appartiene al primario. Un qualunque geologo, mi dice, è vecchia di 350 milioni d'anni. I grandi rettili che popolano questi luoghi, e di cui ho visto i resti nelle fosse sariane, appartengono al secondario, 130 milioni d'anni. Quei cammelli che portano il sale nel Niger, che mi passano dinanzi in carovane lunghe ed eleganti, annoverano i loro progenitori nel lontano terziario, 70 milioni di anni. E l'uomo, questo uomo così grande, nello stesso tempo così piccolo, con quanta lettezza marcia sui cimiteri di animali che l'hanno preceduto. È del quartenario, di ieri, 500 mila anni. Dio non ha fretta nel fare le cose, e il tempo è suo e non mio. Ed io, piccola creatura, uomo, sono stato chiamato ad essere trasformato in Dio per partecipazione. E ciò che mi trasforma è la carità, che Dio ha infuso nel mio essere. L'amore mi trasforma lentamente in Dio. E il peccato è proprio qui. Resistere a questa trasformazione. Sapere e poter dire di no all'amore. Vivere nel nostro egoismo significa fermarsi allo stato di uomo, e impedirne la trasformazione nella carità divina. E fin tanto che non sarò trasformato per partecipazione in Dio attraverso la carità, sarò di questa terra e non di quel cielo. Il battesimo mi ha elevato allo stato soprannaturale, ma tale stato deve essere maturato, e tutta la vita ci è data per tale maturazione. Ed è la carità, cioè l'amore di Dio, che ci trasforma. L'aver resistito all'amore, il non essere stato capace di accettare la sollecitazione di tale amore che mi aveva detto, dalla coperta al tuo fratello, è talmente grave che crea tra me e Dio la porta del mio purgatorio. Che vale dire bene l'ufficio divino, ascoltare la santa messa e non accettare l'amore? Che vale aver rinunziato a tutto, l'essere venuto qua tra la sabbia e il caldo e a resistere all'amore? Che vale difendere la verità, battersi per i dogmi coiteologi, scandalizzarsi di coloro che non hanno la stessa fede e poi restare per epoche geologiche sulla porta del purgatorio? Sarete giudicati sull'amore. Ecco ciò che mi grida quel pezzo di deserto tra Titte e Silette. Sarete giudicati sull'amore, mi dice la grande pietra sotto la quale trascorrerò il mio purgatorio in attesa di maturare in me la carità perfetta, quella che Gesù mi ha ricato sulla terra e mi ha donato col prezzo del suo sangue, accompagnandolo col grido della grande speranza. Io vi risusciterò nell'ultimo giorno. Che quel giorno non sia troppo lontano.